Un fucile calibro 12, ritenuto lo stesso che il 9 agosto del 91 ha ucciso il giudice Antonino Scopelliti nei pressi di Campo Calabro, è stato ritrovato a distanza di 27 anni dalla DDA di Reggio Calabria, che continua ad indagare. Con la squadra mobile lo scò su chi siano i killer che ammazzarono il magistrato che dagli a poco avrebbe dovuto sostenere in Cassazione l'accusa nel maxiprocesso a Cosa Nostra. La notizia è stata data dal procuratore Giovanni Bombardieri nel corso dell'annuale commemorazione a Piale davanti alla stele dedicata al giudice Scopelliti. Adesso saranno gli accertamenti tecnici a fornire a capo della DDA e ai due aggiunti, Giuseppe Lombardo e Gaetano Paci, la certezza che si tratti della stessa arma. Il rinvenimento è avvenuto in provincia di Catania, in un terreno oggi di proprietà di persone strane all'inchiesta e perciò non indagate. Un terreno che all'epoca però era nella disponibilità di un soggetto legato alle cosche siciliane e alle famiglie mafiose calabresi. I PM sono abbottonatissimi su come si è arrivati al fucile, ma la sensazione è che ci sia una gola profonda che possa avere indicato agli investigatori il luogo esatto in cui l'arma era nascosta. I riscontri raccolti dagli uomini del questore Raffaele Grassi e del capo della mobile Francesco Rattà hanno fatto il resto consentendo alla DDA di fare un salto di qualità all'inchiesta. Quel 9 agosto i killer spararono nella frazione Piale di Villa San Giovanni nel processo per l'attentato Scopelliti che si è celebrato anni fa a Reggio Calabria. furono tutti assolti, ma i PM non hanno mai mollato e da tempo stanno incrociando i documenti dell'inchiesta sull'omicidio con quelli del processo Andrangheta-Stragista, che è in corso a Reggio Calabria e che vede imputato anche il boss di Brancaccio, Giuseppe Graviano. La DDA, insomma, potrebbe essere ad un passo dal capire se l'uccisione del giudice Scopelliti sia stato il primo capitolo della strategia stragista, o peggio ancora, la prima dimostrazione di forza utilizzata dalle mafie.